ed eccoci qua ragazzi per questo giro domenicale oggi siamo a una domenica di febbraio quindi siamo al 13 febbraio domani sarà san valentino non so quando vedrete questo video e oggi come da titolo non so che titolo sarà andiamo a vedere un borgo italiano qua in provincia di bergamo uno dei più bei borghi qua in provincia di bergamo io devo essere onesto io devo essere onesto non l'ho mai visitato la prima volta che ci vado non è molto distante da casa mia una quarantina di chilometri e andremo a vedere appunto questo bel paese questo bel borgo quindi ragazzi io direi che ci vediamo quando le strade iniziano a essere un po più tortuose a no a few moments later ora la strada ragazzi inizia a energicarsi e inizia a diventare di montagna quindi si parte a e a 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 eccoci qua a 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 davvero splendida quale tipiche fontanelle montane con anche lavatoio nel caso si abbia una domenica libera si può venire qua anche da Milano diciamo se avete una domenica libera anche da Milano è ben raggiungibile comunque oltre questo borghettino qua anche comunque il contesto guardate ecco il contesto resta davvero stupendo Vallimagna come vi ho detto prima come vi ho detto prima come vi ho detto prima non sono non mi sono mai fermato in Vallimagna non sono mai passato e devo dire che si può incominciare a venire un po più spesso anche qua magari quando magari verso la primavera così si può iniziare anche a venire qua in Vallimagna una bella valletta che diciamo si trova tra la provincia di Lecco e la provincia di Bergamo appunto qua si ci troviamo in provincia di Bergamo a mio avviso a mio avviso facilmente raggiungibile anche da Milano e comunque anche zona di Brescia in un paio d'ore si è qua quindi molto ben raggiungibile e guardate qua e qua che spettacolo ok ragazzi lasciamo questo borgo di Arnosto davvero molto bello se avete un po' di tempo un po' di voglia veniteci che secondo me merita davvero tanto borghettino montano non tanto grande però diciamo che se avete anche solo una mezza giornata di tempo può 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 darvi molta molta soddisfazione anche a livello di strade e tutto quindi adesso si scende scendiamo da la valle Magna che è una valle davvero davvero fantastica quindi niente ragazzi aspettatevi magari altri video di questo genere dove vado magari quando ho una mezza giornata libera così soprattutto magari poi quando inizierà anche fare un po' più caldo quando magari mi viene voglia una mezza giornata di andare fuori in moto magari vado a scoprire qualche borghettino come questi sul Bergamas sul Bergamas comunque zona Lombardia nelle mie zone diciamo andrò magari non massimo di 70 km da casa quando ho mezza giornata per farvi vedere questi bei posti questi bei paesaggi belle strade comunque dei bei borghetti come questo ho già in mente fra mica tanto un altro video di questi dove appunto vi farò vedere altri paesi altri borghi e quindi niente ragazzi se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace un bel pollice in su per farmi capire che questi video effettivamente vi piacciono visto che ci sto mettendo tanta passione nel montaggio soprattutto sto cercando di realizzare dei video un po' più bellini un po' più diciamo elaborati e quindi quindi ragazzi un bel pollice in su se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciando attiva la campanellina delle notifiche per restare sempre giornati e per poter vedere altri video come questo quindi ragazzi io vi ringrazio ancora io vi ringrazio ancora di aver visto questo video e vi lascerei con queste stupende strade questa stupenda vallata una vallata davvero che ti lascia a bocca aperta e alla prossima ciao 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 ciao